E' rientrato ieri sera nella sua abitazione di Piazza Armerina il tecnico della Bonatti, Filippo Calcagno, uno dei quattro tecnici italiani tenuto in ostaggio in Libia per quasi otto mesi. Ad accoglierlo, palloncini colorati e un lenzuolo con la scritta «Bentornato!» e manifesti sui muri con il tricolore e lo stemma della città. Piazza Armerina è felice di riabbracciarti. Calcagno, prima di prendere il volo che da Fiumicino lo ha portato a Catania, era stato ascoltato assieme all'altro collega Gino Pollicardo per quasi sei ore dai magistrati della Procura di Roma che indagano sull'episodio. I due hanno raccontato di essersi liberati da soli ed aver subito violenze psicologiche e fisiche. Hanno detto inoltre di essere stati picchiati con calce e pugni e in alcuni casi sarebbero stati colpiti anche con il manico del fucile e di essere stati lasciati per giorni senza cibo. Agli inquirenti romani hanno raccontato che mercoledì i carcerieri hanno prelevato Salvatore Failla e Fausto Piano, forse per effettuare un trasferimento in una nuova prigione. Sono riusciti a fuggire dopo aver sfondato la porta del luogo dove erano segregati. Ai magistrati hanno aggiunto che non è stato l'ISIS ad averli fatti prigionieri ma probabilmente un gruppo islamista. Due i carcerieri che si alternavano. Del gruppo faceva parte anche una donna. Solo ieri, dopo essere giunti a Roma, hanno saputo della tragica fine degli altri due loro colleghi. A Capoterra in Sardegna e a Carlentini in Sicilia si attendono invece le salme delle due vittime non ancora rientrate in Italia né appare chiaro quando questa avverrà. L'autopsia sarà centrale per stabilire le cause della morte. Quello che per ora filtra da fonti qualificate che non troverebbero riscontro né le ricostruzioni secondo cui i due sarebbero stati usati come scudi umani né quelle di un colpo alla nuca.